Il centro di Ravenna, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, ospita Giovinbacco in piazza. La grande festa del vino e del cibo di Romagna, organizzata da tutti i frutti in collaborazione con la condotta di Slow Food Ravenna e il Comune. Le piazze per gli stand diventano quattro, collaboratori, incontri e musica, spazio ai vini ma anche a birre artigianali, cibo di strada, pane e pizze. Al Salone dei Mosaici, sabato 26, il convegno vino e territorio, il turismo, delle esperienze e delle emozioni. La manifestazione ha tante novità, è una manifestazione di grande successo. Quest'anno avremo quattro piazze, quindi abbiamo conquistato anche Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi sarà dedicata al tema del pane, olio e companatico. Quindi avremo produttori di pane nazionali e anche di olio, e l'olio di Romagna naturalmente che va da Vresighella a Rimini. E le paste fresche, oltre a pizze, focacce, insomma c'è tanto di belle novità in Piazza Garibaldi. La riconfermo ovviamente di Piazza del Popolo con i vini di Romagna e Piazza Kennedy con il cibo di strada, di qualità, con otto ristoranti molto di pregio della nostra Romagna e lo spazio Slow Food. Sempre in Piazza Kennedy avremo anche i vini della Guida Slow Wine. Allora, riconfermiamo per esempio le piadine dei chioschi romagnoli in Piazza Unità d'Italia, dove lì avremo CNA che collabora proprio questo progetto, le birre artigianali romagnole, quest'anno avremo la birra bizantina, saline, quella di casa Spadoni, di Molino Spadoni, e in più si aggiunge una birra nuova che è quella del mercato coperto.